Ciao a tutti, oggi vediamo a cosa servono le impostazioni avanzate del canale. Come sapete ormai è un'abitudine del canale di tutto su YouTube di rispondere a una domanda fatta nei commenti da voi, ogni settimana ne seleziono una o due e faccio un video di risposta. Questo video nasce infatti dalla domanda di SpyDrock che mi chiede cosa significano le impostazioni avanzate di YouTube. Se cliccate su SpyDrock potete andare a vedere il suo canale, fa dei video sul mondo del gaming, è un appassionato di videogiochi. Mi chiede a che cosa servono l'url di rendirizzamento, i rendirizzamenti condizionali, l'url dell'immagine di tracking e poi l'id di Google Analytics. Se anche voi vi avete chiesto a cosa servono queste cose, allora potrebbe essere utile guardare questo video. Inoltre vedremo anche tutti gli altri campi presenti nella scheda impostazioni avanzate del canale. Allora, per andare alle impostazioni... Grazie per avermi seguito, è stato divertentissimo esplorare le impostazioni avanzate con voi. Vi ricordo che potete iscrivervi cliccando su questo link qui sotto e poi invece più sotto se utilizzate Google Plus trovate il link alla pagina Google Plus di tutto su YouTube. E poi vi ricordo che qui di fianco potete visitare, cliccando sulla prima immagine, il canale di SpyDrock ed andare a curiosare fra i suoi video sui game. Oppure potete vedere un tutorial su come realizzare questa qui, questa che vedete, cioè la cartolina finale del video, questa che presenta vari link che potete utilizzare per linkare altri contenuti sul video. Quindi mi raccomando, visualizzate tutti i due link e buoni video. Ciao, ciao, ciao. Ciao Anna, grazie per il video risposto che mi hai fatto questi giorni. Sei stata molto chiara, mi hai tolto questa curiosità, infatti aspettavo da tanto tempo, da qualcuno. Da quando ti ho trovata, guarda, mi hai saputo rispondere in poco tempo e guarda, sono rimasto contento. E grazie anche per la tua gentilezza, sei molto simpatica. E sei brava nei video, continui a fare questi video che sono davvero interessanti. Bene, vi invito ai ragazzi ad iscriversi nel tuo canale. Da come vedete nell'immagine c'è il suo banner. Vi invito ad iscrivervi che fa dei video fantastici. Niente, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video. Ciao.